Nuova ordinanza di chiusura per quanto riguarda la villa comunale di Cirignola nel Foggiano per effettuare un nuovo ciclo di dirattizzazione e disinfestazione. La scelta si è resa necessaria da parte del sindaco Franco Menta su sollecitazione dell'assessore all'ambiente Antonio Leonenti che in una nota postata su Facebook dice sono rammaricato per questa scelta ma si è resa indispensabile questa seconda ordinanza data la persistenza di precarie condizioni igienico-sanitarie nonostante i primi interventi che sono stati effettuati. Il parco cittadino resterà chiuso fino al prossimo 22 agosto.